Ci arrivo a Arcozzembè, che bello, su queste montagne coperte di neve, su queste impervie salite, con questo tempo da lupi ci avviciniamo sempre di più alla meta o alla metà. Vediamo intorno a noi frulle colline, finalmente bagnate dall'acqua, questa pioggia salubre, salutare, che saluta tutti e se ne va. Eccoci a avvicinare lentamente ma inesorabilmente al nostro obiettivo primario. Il nostro obiettivo non già primario, ma bensì secondario. Ora vediamo, d'innanzi a noi, d'innanzi, scusate, la maschia figura di un atleta, un atleta di giovane età. Alla veneranda età di 72 primaveri, egli si annalza sui monti con fare circospetto. Pedala spedito, come una lettera, spedito nella sua pedalata supina. Osservate la sua maschia possanza, la sua maschia possanza. Viene una macchina, una macchina gode, una macchina viene. Ora vedete i suoi piedi, i suoi muscoli, i suoi polpacci. Guardate come spingono rapporti impossibili. Un 32-48 asino cotto. Ecco che rispondi alle nostre...